giocate al tcg di one piece e vi piacerebbe utilizzare un mid range ma al momento non avete ancora trovato un deck che si addice alle vostre esigenze esiste per questo archetipo una lista competitiva da torneo e quale leader potrà rappresentare al meglio questa tipologia di mazzi nel video di oggi troverete la risposta a queste domande signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale pochi giorni fa mentre ero intento a giocare il croco blu viola testando delle modifiche che magari vi mostrerò se mi soddisferanno in uno short mi sono imbattuto in un trafalgar lo rosso verde che mi ha davvero messo in difficoltà ho chiesto quindi la lista al proprietario che gentilmente me l'ha fornita da lì a poco e dopo aver montato il mazzo sulla piattaforma online ho iniziato a giocarci e devo ammettere che ha preso a forza un piccolo angolo del mio cuore e sarà quindi proprio il dottore della morte ad essere il protagonista della lista odierna che sono certo vi piacerà soprattutto perché pensata per orbitare al meglio attorno all'effetto di questo leader che se attivato al momento giusto inizierà a controllare la board in modo talmente efficace che erigerete un muro difensivo degno di nota respingendo come se non la fosse anche gli attacchi più aggressivi ma cos'è effettivamente un midrange arconte questo archetipo di deck andrà a coprire l'intera durata del match risultando aggressivo e sfrenato nei primi turni impiegando un buon numero di creature per creare board per poi gestire la partita nel medio lungo termine scatenando la sua artiglieria pesante che potrà essere impiegata per controllare le varie dinamiche dell'incontro sarà un deck abbastanza ragionato ve lo anticipo ma se comprenderete le meccaniche che lo muoveranno per voi giocarlo non solo risulterà automatico ma anche terribilmente divertente prima di iniziare volevo invitarvi ad iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto per voi è solamente un click del mouse o un tap sullo schermo dello smartphone per noi invece è molto importante così riusciremo a creare e apportare contenuti sempre più interessanti e ricercati grazie infinite in anticipo torniamo al video ed ora scopriamo assieme la lista del mazzo di trafalgarlo rosso verde andiamo a dargli un'occhiata partiamo dal leader dal quale tutto avrà luogo forza pari a 5000 con la presenza di sole quattro vite come di norma e per gli ibridi lo durante la vostra fase principale una sola volta per turno al costo di soli due don vi permetterà di rimbalzare in mano un character sul terreno per giocarne un altro di colore diverso rispetto al personaggio appena rimbalzato con costo pari a 5 o inferiore unico requisito richiesto per innescare questo effetto avere almeno 5 pirati in campo e sarà proprio per questo motivo che quest'oggi non procederemo per sezioni come nelle decklist scorse ma bensì per costo infatti la forza principale di questo mazzo essendo per l'appunto mid range risiederà proprio nell'impiegare già dai primi turni un lavoro forza non indifferente servendosi di molti character con costo pari a 1 20 per la precisione quasi la metà partiamo quindi con il vedere quali saranno le quattro copie di otama apriranno questa decklist costo 1 con 0 in termini di forza una volta giocata diminuirà la potenza di un character sotto il controllo rivale di ben 2000 punti inoltre possiederà 2000 counter e ciò farà di questa piccola abitante di wano un elemento davvero molto valido soprattutto perché entrerà in sinergia con diverse carte presenti nel mazzo ma ne parleremo fra poco quadruplice copia anche per chopper che con il suo costo 1 solo 1000 punti di forza e l'unica abilità blocker a supportarlo vi garantirà protezione nelle prime fasi di un match esso sarà fondamentale assieme ad un altro blocker che vedremo a breve per velocizzare l'innesco del vostro leader rappresentando una prima barricata di difesa contro gli assalti rivali singola copia per nami presente nello starter di laffy che avendo le stesse statistiche di chopper una volta per turno durante la vostra fase principale vi permetterà di assegnare un don esaurito ad un character o leader che vi apparterrà di certo la gattaladra aiuterà in diverse occasioni soprattutto perché assegnando don che sono già stati utilizzati vi permetterà di manovrare al meglio ogni dinamica che questo mazzo avrà da offrirvi capone in quadruplice copia sarà in tutto e per tutto chopper cambierà solo il colore che da rosso vedrà la presenza della supernova tra le fila del verde c'è poco da dire se non come per il medico muta forma anche il boss dovrà essere impiegato il prima possibile le altre tante copie di bonny vi permetteranno di ovviare all'assenza di elementi a basso costo per velocizzare la strategia del deck anche qui costo 1 e 1000 punti di forza durante la vostra fase principale spendendo un don esaurendo di seguito la capitana dell'omonima ciurma potrete visionare le prime cinque carte dalla cima del mazzo per poi rivelarne ed aggiungerne una con tipologia supernova alla mano riposizionando nell'ordine che desidererete le restanti quattro in fondo al deck di certo bonny sarà un turbo non da poco che vi aiuterà nell'andare a cercare elementi utilissimi coprendo l'intera durata del match dato che non essendo specificato un costo minimo potrete recuperare non solo dei capone o altre bonny ma anche degli zoro dei kid o dei trafalgarlo a seconda della situazione che vi ritroverete contro nami anch'essa in quadruplice copia sarà come per bonny un valido elemento per cercare character utili per la vostra fase di manovra costo 1 anche in questo caso ma con 2000 punti di forza la cartografa vi permetterà non appena metterà piede in gioco di visionare le prime cinque carte dalla cima del mazzo per poi andare a rivelare e di seguito aggiungere alla mano un personaggio che apparterrà alla ciurma di cappello di paglia con l'unica eccezione che non sia la stessa nami riposizionando le restanti quattro in fondo al deck nell'ordine che vorrete anche in questo caso la bellezza originaria di coco ci permetterà di velocizzare l'innesco del leader consentendovi di impiegare forze maggiori sul campo di gioco che vi aiuteranno a strutturare al meglio la strategia medio lungo termine di questo deck killer a costo 2 in duplice copia con la sua abilità blocker vi aiuterà a sventare gli assalti rivali ed assegnandogli un singolo don in fase di blocco vi consentirà di pescare una carta se possiederete tre o più character presenti in campo soprattutto nelle fasi iniziali del match innescare l'effetto di questo personaggio non sarà di certo cosa da poco aumentando il numero delle carte in vostro possesso e dallo stesso tempo annullare l'attacco di una minaccia avversaria sanji in monocopia potrà essere di aiuto in diverse occasioni o attraverso i suoi più 2000 di counter per salvare dei character presenti in gioco o attraverso il suo effetto che una volta per turno durante la vostra fase principale vi permetterà di aggiungere una vita alla mano per aumentare di 2000 punti il valore di forza del cuoco mandandolo a 5000 sufficienti per minacciare un leader avversario ed in più vi consentirà di assegnare due donne esauriti ad un personaggio che vi apparterrà presente in campo una vera risorsa da giocare anche e soprattutto in combinazione con chi da costo 8 il calciatore allievo di zeff inizialmente lo avevo tolto credendolo superfluo ma mi son dovuto ben presto ricredere dato che durante diversi match ha davvero inciso nettamente per la riuscita della strategia difensiva di questo mazzo cat viper in triplice copia vi aiuterà a spianarvi la strada verso le vite rivali dato che il suo effetto on play vi consentirà di esaurire un personaggio avversario con costo pari a 3 o inferiore in più essendo un 3000 di forza con costo 2 in diverse occasioni l'ho utilizzato per sferrare qualche offensiva ai danni di chi mi giocava contro dato che assegnandogli due donne e da come abbiamo visto non sarà difficile utilizzare anche quelli già esauriti possiederà sufficiente potenza per tornarvi utile in fase di attacco brook in duplice copia una volta sceso in campo assegnerà due donne esauriti ad un character o leader presenti sotto il vostro controllo la rockstar mi sono ritrovato a giocarla spesso in combinazione con l'appena visto cat ad esempio ma tornerà utile anche in fase di counter possedendo più 2000 o anch'esso come per viper in attacco presentando anche in questo caso 3000 punti di forza killer a costo 3 entrerà perfettamente in sintonia con viper dato che appena farà la sua comparsa sul campo di battaglia metterà ko un personaggio esaurito con forza pari a 3 o inferiore sotto il controllo del vostro avversario in più ci sarà la presenza dell'abilità trigger che vi consentirà di giocare questa supernova a costo zero attivandone di seguito l'abilità inoltre possedendo anche il membro della sciurma di kid 3000 punti di forza come per cat e brook assegnargli un paio di don per infastidire chi vi giocherà contro di certo non potrà che far bene nico robin in triplice copia rappresenterà quella spina nel fianco che attirerà le attenzioni e le ire di chiunque vi giocherà contro costo 3 con potenza pari a 4000 assegnandogli un singolo don quando attaccherà metterà ko un personaggio con forza pari a 3000 o inferiore sotto il controllo rivale utilissima soprattutto per togliere di mezzo quei piccoli blocker che altrimenti vi sbarrerebbero la strada vanificando i vostri assalti ed incastrandosi davvero bene anche con l'effetto di otama inoltre dopo avergli assegnato il don diverrà una 5000 che potrà permettervi di gestire la manovra offensiva come meglio crederete quindi dopo aver visto tutto quello che vi servirà per infastidire e contenere il vostro avversario passiamo all'artiglieria pesante quella che tornerà utile per aggiudicarvi il match nelle fasi intermedie e prolungate dell'incontro zoro in quadruplice copia rappresenterà il fulcro della fase offensiva del deck con costo pari a 3 e ben 5000 punti di forza possiederà l'abilità rush a coronare il tutto consentendo allo spadaccino di sferrare un'offensiva non appena sarà entrato in campo illegale come carta in almeno 16 universi conosciuti la supernova si sposerà perfettamente con diverse carte all'interno del deck massimizzandone l'aggressività ed infastidendo all'inverosimile le difese rivali scopriremo più avanti una delle varie combinazioni che vi permetteranno di attaccare più volte con il vice di cappello di paglia quadruplice copia anche per trafargar low che oltre a possedere l'abilità blocker una volta giocato vi consentirà di riprendere in mano un character sotto il vostro controllo per poi giocarne un altro con costo pari a 3 o inferiore 6000 di potenza da impiegare attraverso l'utilizzo di 5 don il medico della morte sarà la carta principale da utilizzare in coppia con l'appena menzionato zoro inoltre sarà un validissimo target per l'abilità del leader il che vorrà dire che potrete impiegare questo character pagandolo solo 2 invece che al suo costo originale la singola unità di x drake vi consentirà non appena lo impiegherete dalla mano di mettere ko un personaggio avversario esaurito con costo pari a 4 o inferiore presente sul terreno anche in questo caso il dinosauro potrà essere bersagliato dall'abilità di trafalgar leader ed avendo ben 6000 punti di forza di certo la supernova vi tornerà utile allo scopo offensivo inoltre potrete attivarne l'effetto se contro un doffi vi ritroverete a dover subire una boa che entrando attraverso l'innesco del fenicottero esaurita risulterà essere una preda facile da togliere di mezzo laffi in duplice copia assieme a zoro sarà il fulcro di supporto della fase attaccante costo pari a 5 con 6000 di forza possedendo come per lo spadaccino l'abilità rush potrà essere bloccato da nient'altro che counter se gli assegnerete due don disattivando quando attaccherà ogni abilità blocker presente sul campo di battaglia rivale quindi brooke la singola nami e sanji torneranno utili allo scopo massimizzando la resa della vostra strategia di battaglia permettendo inoltre a questo character di ignorare qualsiasi ostacolo presente in campo trafalgar low in singola copia reperibile dallo starter deck di kid leader verde vi permetterà non appena farà il suo ingresso di ripristinare un character con tratto supernova o hair pirates con costo pari a 5 o inferiore presente in campo anche qui la controparte del blocker potrà rientrare nelle mire del leader innescando combinazioni di carte che match dopo match padroneggerete al meglio in più con i suoi 6000 punti di potenza fornirà un grande supporto al reparto offensivo togliendo di mezzo character esauriti o attaccando direttamente il leader sotto il controllo del vostro rivale chi da costo 8 in doppia copia chiuderà il reparto personaggi fornendo protezione all'intera board il suo effetto infatti vi permetterà di esaurirlo una volta per turno nella vostra fase principale andando di seguito a giocare un character con costo pari a 3 o inferiore direttamente dalla vostra mano ma l'abilità più importante non sarà questa ma quella che si attiverà durante il turno avversario infatti assegnando un singolo don alla supernova chi vi giocherà contro non potrà attaccare nessun altro personaggio presente sul terreno a meno che esso non si chiami eustas captain kid e possedendo ben 8000 punti di forza non sarà di certo facile toglierla di mezzo tenete comunque sempre a mente che dalla sua sopravvivenza più o meno lunga sul terreno ne risentirà positivamente o negativamente l'andamento del match dato che più kid resterà in gioco più saranno alte le vostre probabilità di vittoria quindi copritelo con counter dalla mano e all'occorrenza tenetevi sempre la seconda copia pronta per essere impiegata a sostituzione e dopo aver visionato tutto il reparto character passiamo ora agli event che in questo deck vedranno solamente tre copie di un singolo elemento infatti il tris di jet pistol costituirà l'unica carta presente di questa categoria con costo pari a 4 attivandolo nella vostra fase principale vi permetterà di mettere ko un character sul terreno rivale con forza pari a 6000 o inferiore con conseguente abilità trigger che ne attiverà l'effetto appena menzionato ottimo in combinazione con otama ma anche se preso singolarmente di personaggi con un tale livello di forza ce ne saranno quanti ne vorrete sarà sempre utile comunque averli a disposizione dato che vi ritroverete costantemente ad affrontare ostacoli che separeranno voi dalle vite avversarie e così dopo aver visto l'intera lista passiamo ora a qualche strumento utile per conoscere meglio il mazzo ponendoci la solita prima domanda come funziona all'atto pratico questo deck dovrete assolutamente impiegare il maggior numero di character nel minor tempo possibile per darvi un metro di paragone al vostro turno 3 dovrete già avere 5 personaggi in campo così da innescare l'effetto del vostro leader utilizzate al meglio le varie combinazioni di carte come ad esempio otama e jet pistol o nico robin per diminuire la potenza di un character avversario per poi riuscire a farlo fuori agilmente chi dà costo 8 più brook o sanji per avere una presenza più numerosa in campo ed allo stesso tempo per assegnare due donne esauriti alla supernova per innescarne l'effetto o il ping pong tra zoro e il trafalgar blocker che rappresenterà davvero una bella combinazione di carte per sferrare un duplice attacco con lo spadaccino zoro attacco effetto del leader riprendo zoro scendo lo attivo l'effetto di lo riprendo in mano un character scendo un personaggio con costo pari a 3 o inferiore giocando quindi di nuovo zoro attacco una seconda volta ci sarebbe inoltre da parlare anche del secondo trafalgar in combinazione con laffi ma lascerò a voi il gusto della scoperta in sintesi di sinergie nel mazzo ne troverete davvero a non finire parlando quindi essendo comunque un mazzo mid range di cosa vi permetterà di sopravvivere nei primi turni di gioco protraendo il match fino alle battute finali 14 saranno i blocker a vostra disposizione partendo dai piccoli character come capone chopper e killer fino ad arrivare ai più pesanti lo se poi vorrete metterci anche i due kid essi forniranno ulteriore resistenza dato che se ne attiverete l'abilità diverranno l'unico bersaglio valido da attaccare per chi vi giocherà contro invece per la fase offensiva possiederete i 4 zoro e i due laffi con rush che sono certo daranno del gran filo da torcere alle difese nemiche per non tacere di sangi che il suo lo farà di trafalgar lo dello starter e delle nico robin che quando sferreranno un'offensiva assegnandogli un don toglieranno di mezzo ancora prima che il danno venga calcolato dei blocker fastidiosi presenti sul campo di battaglia rivale ed infine i vari cat viper, brook e killer a costo 3 che all'occorrenza attraverso l'utilizzo di un paio di don assegnati a testa vi potranno tornare utili per attaccare quindi trattando l'argomento mano iniziale più avrete character da giocare e immediatamente meglio sarà dato che l'abilità del vostro leader non vedrà l'ora di essere innescata perciò piccole creature e magari qualche elemento come laffi o lo qualunque esso sia rappresenteranno un buon inizio se così sarà potrete procedere tranquilli in caso contrario mulligan ed incrociate le dita per la win condition la situazione ideale sarebbe quella di avere un kid a terra ben coperto con i vostri counter che avrete in mano bombardando l'avversario di attacchi continui magari con i vostri laffi assegnandogli due don e ripristinandoli con il trafalgar attraverso l'effetto costante del leader ma sarà così una volta su 100 quindi prendete questo esempio come un'utopia da dove trarre spunto parlando di matchup invece il più difficile sarà contro crocodile blu viola che essendo un osso duro a morire non andrà mai in carenza di carte in mano rispondendo ad ogni vostro assalto in modo efficace e repentino non saranno altrettanto da sottovalutare doffi che con la presenza costante di character in gioco potrà darvi qualche bel problema e kaido che se giocherà ai colossi vi metterà davvero in difficoltà mentre ve la giocherete davvero bene contro gli zoro arginando al meglio ogni rushata con blocker a non finire in combinazione con il kid nelle battute finali della partita che rappresenterà per il leader rosso un vero spauracchio da scongiurare ed il kid verde che avendo pressoché i vostri stessi punti fermi vi concederà degli attimi di divertimento puro match invece privi di interesse almeno così è stato per me contro crocodile monoblu gli passerete sopra come se nulla fosse e laffi rosso valido come il rush ma non minimamente paragonabili a zoro o almeno non al momento infine per la fase counter ci saranno 7 più 2000 vedasi otama sanji e brooke più altri 20.000 più con le presenze illustri di bonnie, le nami, i killer a costo 2 e 3 cat viper, nico robin, drake e il trafalgar dello starter che vi consiglio di utilizzare solo se strettamente necessario come già detto questo non sarà un mazzo facile da utilizzare soprattutto nelle prime battute a meno che non siate giocatori che amano e giocano da una vita questo archetipo quindi mi rivolgo a tutti coloro che non hanno mai preso in mano un midrange non scoraggiatevi se di 10 partite ne andrete a perdere 8 o 9 sarà del tutto normale continuate a testare e tenete a mente questo punto fermo il midrange non ha fretta di chiudere detta il tempo come vuole e quando ha la situazione sotto il suo totale controllo solo allora si permette di picchiare intento a chiudere il match nel mazzo saranno presenti 14 blocker 16 se utilizzerete anche i due kid a costo 8 che svolgeranno il ruolo di difensori sventando gli attacchi rivali 7 personaggi con valore di counter pari a 2000 più un tris di event che vi permetteranno di togliere di mezzo alcuni elementi di disturbo per lo svolgimento della vostra strategia di gioco i 7 attaccanti più gli altri di entità inferiore ma altrettanto pericolosi che minacceranno costantemente le vite avversarie e molto altro ancora che spetterà voi scoprire attraverso match sempre più avvincenti concludendo questo sarà davvero un mazzo che garantirà soddisfazioni a chiunque vorrà impararlo per bene dato che entrando a pieno nelle sue dinamiche inizierete a scoprire sinergie che ogni volta vi sorprenderanno e voi avete trovato utile la lista proposta a quest'oggi? come sempre fatemelo sapere nei commenti mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG vi ringrazio di essere stati in mia compagnia noi ci vediamo al prossimo video vi ringrazio di essere stati in mia compagnia